Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi vi farò vedere le mie carte Pokémon. Iniziamo subito con le Jits. Allora, abbiamo Tapu Koko GX, Noi Verno GX, inglese, Stina GX, poi Lycarok GX, Noi Verno GX, Forma Notte, Tapulele GX, Arcobaleno, Metagross GX, Full Art, Primarina GX, Gumsosho GX, Chardisard GX, inglese. Andiamo avanti con Mega Chardisard X, inglese X, Primal Grudon X, Zegard X, Ash Graninja X, Black Curran X, Altaria X, Graninja, Graninja, Frogadir, Froki, Tapu Koko, Normale Shiny, Solgaleo, Lunala, Iverdark, che è un Pokémon leggendario, Rushiamo un altro Pokémon leggendario, Noi Verno, Asticuno, Reafeon, Geolteon, Toracat, Tyrant, Zellius, Jarisard, Nidoking, Reggio, Ferro, Charmellion, Luponi, Talonflame, Ingenior, Crocodile, Trevent, Yundum, Flot, Zell, Braviari, Kangashan, Riperior, Mutzlale, Salans, Diolola, Dewang, Valimer, Lagorrock, Normale, Formagiorno, Homala, Primarina, Arcanine, Sulobro, Fairfax, Magneton, Machop, Electrode, Eatmor, Reinor, Butterfree, Ridon, Lugario, Buffaland, Magnemite, Corzola, Brion, Gurdur, Executor, Ursaring, Slowpoke, Pelipper, Bruktsings, Moltres, Altaria, Articuno, Full Art, Full Art, Ragazzi, Full Art, Un legendario Full Art, Bad Art, Charmander, Simipur, Sattade, Re, Re, Uniclus, Re, Re, Uniclus, Slobro, Moltres, Ardior, Golduck, Pikachu, Onyx, Danybeard, Axeo, Silcon, Tentacruel, Metapod, Nightbot, Lapras, Dragonair, Di, Dijors, 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 Pracender, Electric, Bats, Acribats, Nidorina, Butterfree, No, No, Setta, Bell, Tufli, Scusatemi, Goibat, Staravia, Jagmo, Oncre, Grove, Leopard, Tro, Savak, Schermori, Panciam, Go, Gottitalle, Boldore, Pikachu, Buizel, Saviper, Santerre, Dialola, No, Dialola, Dark Reads, Energia speciale di infuocata, Energia di bolotta, Andiamo agli allenatori, Kauwe, Suiren, Mantello gigante, Sciarpa, Salvagente, Ingetto di evoluzione, Addestramento del saggio, Altare lunare, Riciclaggio di energia, Pozione Max, Legame mentale con Pidiot, Legame mentale con Venusaur, E legame mentale con Charizard, State, E, Pokedex, Rotom, Modalità, Pokedvisore, Vulneropolis, Vulneropolis, Pozione, Super martello, Scambio multiplo, Tenaccio di brocco, Spero tanto che questo video vi sia piaciuto, E legame mentale con Pidiot, Crecкak di providing one Area del Kane, но global atrivo, non.